Care cittadine, cari cittadini, il nostro Paese è apprezzato per la sua affidabilità e per i buoni servizi che mettiamo a disposizione degli altri. Intratteniamo buoni rapporti con i nostri vicini e con il mondo intero. Per questo motivo abbiamo concluso una serie di trattati internazionali a tutela dei nostri interessi. Questi trattati, conosciuti anche come diritto internazionale, rivestono grande importanza anche nella vita quotidiana di tutti noi. Disciplinano ad esempio i passaggi di confine, il traffico aereo o l'importazione e l'esportazione di merci. Proteggono inoltre i diritti individuali di ciascuno di noi, i diritti umani insomma. In altre parole, questi trattati sono sinonimo di affidabilità e di stabilità sia per la popolazione sia per l'economia. Siamo noi stessi a decidere quali trattati vogliamo stipulare e siamo sempre noi a decidere quali vogliamo denunciare. Nessuno ci impone nulla. Il popolo e il Parlamento possono partecipare a queste decisioni secondo le regole della nostra democrazia. Il 25 novembre saremo chiamati a votare sulla cosiddetta iniziativa per l'autodeterminazione. L'iniziativa vuole, in determinate circostanze, costringerci a denunciare e rinegoziare importanti trattati internazionali. Ne conseguirebbero inutili conflitti con gli altri Stati e tensioni all'interno del Paese. Un sì all'iniziativa finirebbe quindi per creare incertezza e rovinare la reputazione della Svizzera procurando grossi problemi alla nostra piazza economica. Condizioni quadro stabili sono infatti un fattore di successo per la nostra economia. Care cittadine, cari cittadini, questa iniziativa è un esperimento pericoloso, un esperimento a cui dobbiamo rinunciare. Perché nuoce alla Svizzera e danneggia l'economia, quindi la nostra prosperità. Ecco perché il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di votare no all'iniziativa per l'autodeterminazione il prossimo 25 novembre. Grazie.